Bentornati! Nel video di oggi cerchiamo di capire esattamente che cos'è l'interpretazione, quali sono i suoi limiti, come si fa, se è possibile farlo, capire lo spirito del compositore, capire che cosa il compositore voleva. In più potremmo chiederci se c'è una maniera giusta e una maniera sbagliata di dirigere un pezzo. Oggi cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Allora, è ovvio che tutte le indicazioni che darò riguardano esclusivamente la musica classica, la musica lirica, evidentemente, insomma, non riguardano altri generi di musica. Allora, partiamo dalla cosa più scontata, le note. Le note, quelle sono, e su questo non ci piove, per cui non c'è nessuna possibilità che il direttore orchestra modifichi le note. Ci sono stati dei casi. Mahler è noto che aveva riorchestrato, o meglio, messo mani, per essere più precisi, ad alcuni punti delle sinfonie di Beethoven. A volte anche Franco Ferrara faceva questi piccoli aggiustamenti, però, diciamo che se non siete o male a Rofranco Ferrara, questa cosa vi è assolutamente preclusa. Perché nel complesso, proprio per la visione che si ha nella musica classica del figura del compositore, mettere mani a qualcosa che ha scritto Beethoven, tanto poi è il primo che mi viene in mente, sarebbe esattamente come mettere i baffi alla Mona Lisa, insomma. Sarebbe considerato un oltraggio e un, ma chi credi di essere, come ti permette di fare una roba del genere. Per cui, le note non si toccano mai, 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 non è vero. In realtà, chi può modificare le note non è tanto il direttore orchestra, ma chi si appresta a fare un'edizione critica. Che cos'è un'edizione critica? È uno studio portato avanti da una casa editrice che si ripropone di cercare di, come dire, ricostruire la vera volontà dell'autore. E su questa cosa ci sarebbe veramente da fare un video apposta, perché è un discorso molto complesso. Per cui può succedere che a volte, nel fare l'edizione critica di un pezzo, non solo vengano cambiate le arcate, in certi casi il fraseggio, spesso le articolazioni, ma in rari casi addirittura le note. Perché vengono cambiate le note? Perché magari il curatore dell'edizione critica ha trovato in una biblioteca in mezzo alle Alpi un manoscritto dove c'era qualcosa di diverso. E allora dice, no, questo qua è anteriore o è successivo a quell'altro, quindi è più importante o meno importante. Se conviene, certe cose vengono considerate vincolanti, e se non conviene, non vengono considerate vincolanti. Però, ripeto, questo è un discorso molto complesso che riguarda un altro argomento che potremmo però affrontare. Però, questo per dirvi che a volte un'edizione critica può avere anche delle note diverse. Raramente si tratta di sconvolgimenti clamorosi, però questa cosa può succedere. Quindi le note, diciamo, nel complesso le note non si toccano. Le dinamiche. Le dinamiche si possono modificare, sì, le dinamiche si possono modificare all'interno della ragionevolezza. E quindi, se io sono partitura scritto forte, potrò chiedere all'orchestra di suonare fortissimo, con due F. Non potrò chiedere all'orchestra di suonare piano, o pianissimo. Oddio, non potrò. Posso farlo. Capiriamo più avanti che un conto è la domanda, il direttore può fare determinate modifiche, e un conto è la domanda, ma è una buona idea farlo? No, vediamo adesso nel corso del video. Per cui la dinamica può essere modificata, sì, all'interno più o meno di quei range, senza stravolgere completamente quello che c'è scritto. Il tempo. Il tempo può essere modificato dal direttore, quindi può far parte dell'interpretazione del direttore, direi sicuramente. Tant'è vero che spesso noi vediamo della stessa sinfonia, diretta da un direttore, direttore dall'altro, anche una consistente differenza di durata. Che cosa vuol dire? Che una ha la staccata più lenta e una ha la staccata più veloce. Per cui l'indicazione Allegro è un po' simile alla dinamica. Allegro lo posso fare a 120, a 110, a 130, non potrò fare un Allegro a 56 di metronomo alla semi minima. E non potrò farlo neanche a 180, perché a 180 è un Allegro a molte, è un presto addirittura. Ecco, per cui sì, c'è una discrezionalità del direttore o dell'esecutore in generale sul tempo, su che cosa significa Allegro. Allora, in certi casi, il compositore scrive proprio un'indicazione di metronomo precisa. E anche qui sul metronomo, insomma, ci sarebbe da approfondire l'argomento. Vi dico solo che, in certi casi, certe indicazioni metronomiche non sono coerenti o addirittura non sono eseguibili, in certi casi. Detto questo, c'è sicuramente un agio all'interno del quale l'interprete può modificare il tempo e lo vedremo anche nei video che vediamo più avanti. Articolazioni e legature. Quindi cambiare, che sono un marcato, un punto, uno staccato, uno spiccato. Insomma, ci sono tantissime articolazioni. Come ci sono tantissimi, quasi infiniti modi di considerare una legatura. E qui andiamo alla domanda. Il direttore può fare queste cose? Sì, lo può fare. Bisogna capire se è una buona idea. Cioè, se quello che fa non va contro l'interpretazione, come dire, accademica che di quel pezzo si dà. E qui andiamo a toccare un punto importante. Perché io, da ragazzo, pensavo che il grande direttore fosse quello che tirava fuori quel dettaglio che nessuno aveva mai sentito in quella sinfonia che tutti hanno ascoltato centinaia di volte. Ni. Sì, può esserci anche questo aspetto, ovviamente. Può essere, insomma, che il dettaglio, una certa indicazione di dettagli, soprattutto la puntista contrapuntistico, di far sentire un qualcosa che magari nel tutti-orchestrale si perde un po', o un frammento di un tema sicuramente può essere una buona idea farlo emergere. Però poi, con gli anni, ho capito che non è questo che fa un buon direttore. Un buon direttore è quello che sta a dare una lettura coerente riferita all'autore, al periodo, allo stile. E poi questa cosa anche un po' si, come dire, si viene a interfacciare col gusto di oggi. Però, insomma, direi che la prima parte è decisamente più importante della seconda. Perché poi, appunto, questo è il discrimine tra una interpretazione e una buona interpretazione. saper far combaciare e coincidere e soprattutto armonizzare tutti questi aspetti. Quello su cui cambia sensibilmente un direttore rispetto a un altro può essere il suono. Perché, allo stesso passaggio, un direttore può chiedere più espressivo, può chiedere, quindi, magari, più vibrato. Oppure c'è tutto un repertorio che è quello, diciamo, della fine del Settecento, cioè tra la fine del periodo classico inizia il romanticismo, in cui certi autori possano eseguiti in maniera classica o in maniera già romantica. Cosa che influisce spesso anche sulla scelta di strumenti. Quindi, se suonare con gli strumenti attichi, se suonare con le corde di budello rispetto alle corde d'acciaio, se usare l'arco barocco o l'arco moderno. Insomma, anche questo, come dire, è un grado di approfondimento che non ho, ovviamente, la pretesa di poter esaurire nell'arco di questo video. Però, insomma, vi sto, come dire, dando tutta una serie di input che poi magari potrebbero essere stimolo per dei successivi video e degli ulteriori approfondimenti. L'espressività, sì. Cioè, ecco, il come rendere una frase espressiva, il come far emergere una frase, se farla emergere, quella frase, e come farla emergere all'interno di tutto quello che fanno gli altri strumenti, questa è sicuramente una scelta del direttore. Dopodiché, questa cosa deve avere sempre un senso musicale. Cioè, la dico in un'altra maniera, sia le viole, che so, stanno facendo delle note ribattute di accompagnamento e io dico, oh, caspita, nessuno ha fatto sentire queste viole, sentiamo fortissimo queste viole e sentiamo meno forte il tema, beh, questa non è una grande idea di concertazione, anche se sto facendo una cosa che nessuno mi ha fatto sentire, perché il ruolo delle viole in quel punto lì è di accompagnamento e questo devono fare. Potrò lavorare sull'articolazione, potrò lavorare un pochettino sulla dinamica, ma non posso far sentire l'accompagnamento molto più forte di quello che l'accompagnamento dovrebbe accompagnare, evidentemente. Per questo vi dico, il fatto di far cose che nessuno ha mai fatto, non vuol dire che sia una buona idea. Altra cosa, e questa è più legata all'utilizzo o meno di strumenti antichi, è la questione del diapason, dell'A440, non so se avete visto il video che ho fatto sull'A440 contro l'A442, se non l'avete visto vi lascio il link. questa è decisamente una scelta che fa il direttore, che può scegliere anche di avere un'accordatura più alta di 440 che è generalmente quella standard, può chiedere anche un 442 per avere un suono più brillante, qualcuno addirittura, soprattutto nei concerti all'aperto, chiede un'intonazione un pochettino più alta, magari un 441, consapevole che poi, stante l'umidità e la temperatura l'accordatura un pochettino scenderà, in altri casi si richiede un'accordatura più bassa per scelta del direttore oppure, ripeto, perché se si suonano con strumenti antichi si fa con un accordatura con diapason decisamente più basso. Prendiamo come esempio l'inizio dell'assessore di Beethoven e diamo lo sguardo a un'edizione classica, un'edizione Peters di questo pezzo che fa quindi le due note legate il re puntato e il resto che vedete. Ora, posso io direttore per esempio fare legare le prime tre note e fare tarari tarararam sì, lo posso fare ma anche qui bisogna vedere se è una buona idea a farlo perché comunque quello è un incipit cioè le due note legate con la nota puntata che spesso si trova nel corso di questa sinfonia è un frammento che troviamo spesso per cui o dopo aver modificato qui lo modifichiamo in tutta la sinfonia snaturando insomma evidentemente quella che era l'intenzione dell'autore oppure è meglio non farlo. L'intenzione dell'autore qual è l'intenzione dell'autore? vediamo cosa voleva l'autore l'autore voleva questa roba qui il manoscritto il manoscritto come potete vedere è tutto da interpretare vedete parari allora quindi sicuro sappiamo che il la che Betone voleva il la il si è legato su questo re c'è un punto ma io non lo vedo è presumibile che ci sia perché non essendo legato alle altre note presumibilmente si deve fare staccato esattamente come questo sol e questo do che nelle visioni che abbiamo visto prima avevano un punto io qui punti non ne vedo però anche qui possiamo supporre che dato che non c'è la legatura si suppone che ci sia il punto ma c'è punto e punto c'è il punto dello staccato come abbiamo visto ma c'è anche quest'altra edizione che vi faccio vedere che tra l'altro è un'edizione abbastanza nuova dove vedete che al posto del punto viene utilizzato questa articolazione che è uno staccatissimo quindi sarebbe e questo cambia il senso ovviamente della frase e ci sono altre edizioni come questa è una vecchia edizione edizione a ricordi che vedete per esempio non segnala il punto né sul re né sul sol né sul do e se vogliamo questo per un certo verso è la più fedele a quello che era il manoscritto però al dia di questo la cosa più importante che fa un direttore in genere è dare l'intenzione della frase cioè io posso fare oppure sto esagerando sto facendo volutamente delle cose insomma anche molto discutibili ma per darvi per darvi per spiegarvi che cosa può voler dire interpretare una frase in un'uniera o nell'altra avete presente la famosa frase al mio segnale scatenata all'inferno e quella frase la possiamo dire al mio segnale scatenata all'inferno oppure al mio segnale scatenata all'inferno dove vogliamo l'importanza sul fatto che io dia il segnale o sulla conseguenza di quello che il mio segnale darà cioè l'inferno sono scelte interpretative ok e quindi e quindi la domanda che potreste farvi è e quindi qualunque scelta interpretative valida nell'ambito del buon gusto sì cioè io potrei anche stravolgere completamente tararirara pam 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 questo veramente l'ho esagerato insomma però teoricamente lo posso fare ma è una buona idea farlo non tradisce quello che quello che voleva il il compositore che tra l'altro in una sinfonia come questa dove ci sono delle indicazioni proprio specifiche dell'autore legate alla natura legate a una certa musica programma e quindi insomma il risveglio della primavera lo ottengo come l'ho cantato prima direi proprio di no il risveglio della primavera lo ottengo sicuramente facendo quello che c'è scritto dopodiché c'è il margine nel quale questa nota non ha il punto al punto al punto dello staccatissimo insomma ecco questo sì dopodiché posso però ripeto dare una direzione e adesso vedremo una serie di di esempi di come alcuni direttori fanno questa questo incipit vediamoli vediamo Karajan grande classico avete visto qui è andato molto pulito non ha fatto un particolare ritenuto che peraltro non è scritto ma diversi direttori lo fanno sentiamo boom ecco avete sentito un tempo leggermente più lento di Karajan e in generale anche un meno suono quindi una dinamica una dinamica decisamente più più piano sentiamo Blomstedt che nonostante quasi 90 anni fa questo bel salto sul podio chapeau ti invidio ecco avete sentito come lui l'ha fraseggiato in maniera diversa con quel diminuendo alla fine quel podio ritenuto molto bello molto elegante ha fatto proprio il gesto per cui come vedete nell'ambito delle stesse battute abbiamo un'interpretazione diversa sentiamo Orosco e Strada che ogni tanto capita su questi schermi qui tempo decisamente decisamente più camminato e con un piccolo piccolo ritenuto ritenuto alla fine sentiamo Barenboim ecco qui avete sentito molto diverso per esempio da quello dell'interpretazione precedente tempo diverso ritenuto finale più lungo più più arioso più più respiro diciamo così quindi molto diverso da prima sentiamo Tilleman ecco qui abbiamo una cosa interessante perché cerco di farvi lo zoom su questo dettaglio qui vedete che c'è ancora un altro tipo di staccato lo staccato con la legatura mi stupisce di queste veramente queste parti vecchie che usano che usa credo che siano i Wiener non sono sicuro ma credo che siano i Wiener insomma potrebbero anche usare delle parti un pochettino più fresche diciamo così però avete visto un altro modo di farlo staccato e andiamo per certi versi a un estremo cioè a Christopher Ogwood qui ovviamente non per niente insomma Ogwood è uno specialista della musica antica lo sentiamo con un diapason molto più basso e col suono tipico degli strumenti antichi quindi con un timbro decisamente diverso per cui concludendo fino a dove può spingersi un'interpretazione beh la dico fuori dai denti dipende molto da quanto è grosso l'interpretazione un direttore giovane che dovesse fare un'interpretazione completamente stravolta e per stravolta si intende stravolgendo la tradizione e spesso il senso che ha quel brano o che noi attribuiamo a quel brano magari anche solo per tradizione magari anche solo per abitudine rischierebbe rischierebbe di essere molto criticato un grande direttore può permettersi qualche probabilmente qualche divagazione in più qualche preziosismo in più però non dimenticate mai che il grande interprete vale per i dettori ma vale per i pianisti vale per tutti non è quello che si inventa cose nuove ma quello che sa fare nella maniera più precisa più fedele e più coerente possibile quello che è scritto bene ringrazio Paolo per la realizzazione di questo video se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale a voi non cambi niente per me invece molto importante se il video vi è piaciuto lasciate un like ma soprattutto scrivete nei commenti quale di queste interpretazioni preferite e possibilmente perché ci vediamo alla prossima